Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. È la vigilia di Natale del 1996 e ci troviamo vicino alla città di San Antonio, in Texas. Le strade irradiate da tantissime luci colorate sono lo specchio dell'atmosfera gioiosa che si respira in questo periodo. Nella chiesa metodista della città di Lavernia, la 32enne Patti Vogue, madre di tre bambini, partecipa con il suo canto a una celebrazione per festeggiare l'imminente Natale. Patti adora cantare, ha una voce dolce e sua dente, è molto fiera del suo gruppo e cantare con gli altri coristi è una delle cose che riesce a darle pace. La chiesa è un punto di riferimento fondamentale per Patti e per il suo rapporto con Dio. Mentre Patti canta sull'altare, il marito, Jerry Ray, detto J.R., e i loro tre figli maschi sono seduti tra i banchi della chiesa. Anche se il matrimonio ormai evidenzia più di qualche crepa, i due coniugi si impegnano a mantenere dei rapporti amichevoli, nonostante siano separati da oltre due mesi. Alla fine della funzione, Patti e J.R. vanno via ognuno per conto proprio. Patti e i bambini si dirigono verso la casa della zia, dove verranno raggiunti da una vecchia fiamma della donna, un certo Gary, mentre J.R. torna nel suo appartamento a San Antonio. Il rapporto tra Patti e Gary, oltre a essere di vecchia data, è anche abbastanza complicato. Patti aveva a malapena 18 anni, quando nel 1982, dopo essersi trasferita a San Antonio con la sua famiglia, incontrò Gary e se ne innamorò perdutamente. I due in realtà erano entrambi molto innamorati, il loro rapporto era solido e lo ufficializzarono. Eppure, un paio di mesi dopo questo evento, un ex di Gary si rifcece viva per dirgli che era rimasta incinta. Gary, per assumersi le sue responsabilità, ruppe la sua relazione con Patti, che ne soffrì davvero molto. Provata da questa inaspettata rottura, Patti cercò di distrarsi. Trovò lavoro in una piccola tavola calda, mentre frequentava il community college. Nel locale, J.R. andava a mangiare spesso. Così, due, dopo un paio di anni di conoscenza, decisero di uscire insieme. L'incontro andò a buon fine, si trovavano bene, tra loro si misero insieme e infine si sposarono. Patti e J.R. convolarono a nozze il 18 maggio 1985 e per 11 anni e mezzo tutto sembrò andare per il meglio. Istituirono una società edile e misero al mondo tre figli. Tuttavia, nonostante questo rapporto apparentemente solido, nell'autunno del 1996, Patti comprese di essere infelice. Era tormentata, le sembrava che tutto stesse andando a pezzi. Infine, il 12 ottobre 1996, i due decisero di prendersi un periodo di pausa. Alla fine di ottobre, J.R. lasciò la casa di famiglia a La Vernia e si trasferì in un appartamento a San Antonio. Patti sembrava di nuovo felice, non ce la faceva più a stare con J.R. Le persone attorno a lei, quelle che le volevano bene, avevano notato che si stava incubendo sempre di più, anno dopo anno. Al contrario, quando aveva detto a tutti che si sarebbe separata, era sembrata finalmente sollevata e felice. Poi Patti confidò a sua cugina Cati di aver riallacciato i rapporti con l'uomo che le aveva conquistato il cuore tanti anni prima. Gary aveva divorziato e Patti era felice perché avevano rincominciato a risentirsi. Torniamo a martedì 24 dicembre 1996, alle 21.30, Patti, Gary e i ragazzi arrivano a casa della zia di Patti, anche se la donna è preoccupata. Spera che il suo nuovo compagno possa essere ben accetto. Certo, Patti si sente in colpa perché è ancora sposata con J.R. Questa situazione le pesa sulla coscienza. Si chiede insistentemente se stia facendo la cosa giusta o se i parenti l'avrebbero giudicata male. Fortunatamente la sua famiglia accoglie entrambi a braccia aperte. La serata termina poco dopo mezzanotte. Una volta scambiati gli auguri di Natale, è il momento di salutarsi. Patti abbraccia sua cugina Cati e le promette di chiamarla il giorno dopo. Non possono prevederlo, ma questa sarà l'ultima ricorrenza in natalizia che avranno passato insieme, purtroppo. Le due cugine non fanno programmi per la giornata del 25 perché Patti ha invitato J.R., il marito con cui è in crisi, a casa sua. Nonostante le recenti difficoltà, la coppia ha preso la decisione di passare questo giorno di festa come una famiglia unita per il bene dei figli. Trascorsa la notte, J.R. arriva nella casa di famiglia verso le 8. Era previsto che vi si recasse presto per portare i regali ai bambini vestito da Babbo Natale. Poi pranzeranno tutti insieme. Se tutto procederà bene, Patti e Gary, il nuovo compagno, passeranno insieme la serata e sarà la zia a occuparsi dei bambini. La coppia è in programma di andare al cinema, ma quando si fa sera, Patti non ha ancora contattato la zia Jean e non le ha lasciato i figli come previsto. Eppure non aveva fatto alcuna telefonata per disdire. Ciò nonostante nessuno si preoccupa, i familiari credono che J.R. e Patti siano rimasti a casa per giocare con i bambini i loro nuovi regali di Natale. Arriva la sera del 26 dicembre, sono le 19.41. Cathy, la cugina di Patti e sua madre, sono a casa quando squilla il telefono. Questa chiamata cambierà per sempre la vita della loro famiglia. Cathy risponde al telefono, dall'altro capo della cornetta c'è J.R. che le chiede se per caso avesse visto Patti. Secondo J.R. nessuno ha più avuto sue notizie nelle ultime 24 ore. J.R. spiega che Patti se ne era andata la sera precedente dopo una brutta litigata che si era protratta per tutto il giorno di Natale. Arrabbiata alla fine, Patti aveva deciso di allontanarsi da casa. Nonostante fosse scomparsa da più di 24 ore, la sua famiglia lo viene a scoprire soltanto ora. Da quanto J.R. dice a Catti, lui inizialmente non si sarebbe preoccupato ipotizzando che Patti fosse andata da Gary. Poi J.R. rivela alla cugina di sua moglie una notizia sconcertante. La macchina di Patti è stata trovata abbandonata in mattinata a circa 25 chilometri di distanza da casa. Era parcheggiata sulla strada con una gomma a terra. Era stato il capo di Patti, che ora lavorava come segretaria in una società di appalti elettrici, a riconoscere la macchina parcheggiata fuori dalla carreggiata, situata a meno di 4 chilometri dal luogo di lavoro della donna. Dunque l'uomo si aspettava di trovarla in sede, ma Patti non c'era. Così aveva avvisato J.R. della situazione, era preoccupato perché non era da Patti assentarsi dal lavoro senza avvertire. Il direttore aveva proposto a J.R. di incontrarsi a metà strada chiedendogli di portare le chiavi di riserva dell'automobile di Patti. J.R. però gli aveva risposto che non aveva tempo per incontrarlo, perché stava andando a chiedere il divorzio. Aveva intenzione di indurre Patti a troncare il suo rapporto con Gary, presentandosi con l'istanza di divorzio. Ma siccome doveva comunque recarsi in città, alla fine J.R. aveva deciso di passare dal direttore per lasciargli le chiavi, in modo da far rimuovere il veicolo. Il direttore aveva cambiato la ruota bucata, aveva guidato l'auto fino ai pressi dell'ufficio, per poi scoprire che nessuno sapeva dove si trovasse Patti. Appena Cati termina la conversazione telefonica con J.R., informa subito la madre della scomparsa della cugina. In preda alla preoccupazione, le due donne decidono di chiamare immediatamente Gary, il nuovo amore di Patti. Purtroppo neanche lui l'ha più vista dopo la cena della vigilia. Quasi sotto shock, Gary raggiunge la zia di Patti e sua figlia Cati, per aiutarle nelle ricerche in qualche modo. Cati chiama l'ufficio dello sceriffo della contea e denuncia la scomparsa di Patti. Il timore è che sia stata rapita da un'automobilista a cui, magari, aveva chiesto un passaggio dopo aver bucato la ruota. Siccome non sono ancora trascorse 72 ore dalla sua scomparsa, la polizia non intraprende ancora le ricerche. Insomma, Patti è maggiorenne e in teoria può essersi semplicemente allontanata. Può andare e tornare quando vuole, vista l'età. Dato però che le chiamate si protraggono, la polizia decide di accogliere la denuncia al telefono. Nel frattempo, anche se ormai è notte, Cati e un'amica decidono di raggiungere il punto in cui l'automobile di Patti era stata abbandonata, con una ruota a terra. Pensano davvero che la donna sia stata rapita. Cati, ipotizzando che sua cugina non si sarebbe mai arresa senza lottare, spera di trovare nei dintorni qualcosa che le appartenga come un brandello di vestito o una scarpa. Così lei e l'amica iniziano a cercare in zona valendosi di due torce. Intanto, i familiari di Patti sono nel pieno di alcune riflessioni. J.R., ossia il marito che la donna aveva lasciato, è l'ultima ad averla vista viva, il giorno di Natale. Secondo J.R., Patti sarebbe uscita di casa dopo un'intera giornata scandita dalle liti. Ma i parenti di Patti pensano che ci sia qualcosa che non va. Ritengono impossibile che la donna abbia abbandonato i figli, scegliendo di non tornare più a casa. Jean, la zia di Patti, inizia a chiamare chiunque la conosca per sapere se è stata vista da qualcuno dopo Natale. A cominciare dai parenti stretti che attualmente si trovano in Georgia. Scopri così che Jenny, la sorella minore di Patti, l'ha sentita il giorno di Natale, intorno alle 10.30. Al telefono aveva risposto J.R., Jenny gli aveva fatto gli auguri di Natale e gli aveva chiesto di parlare con sua sorella Patti. J.R. gliel'aveva passata, ma Jenny, udendo la voce di Patti, si era resa conto che sua sorella maggiore aveva pianto. Patti aveva provato a dirle che era soltanto raffreddata, accampando una scusa, e Jenny, comprendendo la situazione, non aveva insistito oltre. Jenny aveva vissuto per un periodo di tempo con Patti e J.R. ed era molto legata alla famiglia della sorella. Per Jenny, J.R. era un bravo uomo, avevano un bel rapporto, tanto che gli aveva chiesto di accompagnarla all'altare il giorno del suo matrimonio. Ma Jenny aveva intuito subito che la separazione tra la sorella e J.R. non sarebbe stata di quelle facili. Avvertendo la tristezza di Patti il giorno di Natale, Jenny non poteva che preoccuparsi. Patti continuava a ripeterle che andava tutto bene. Jenny gli aveva promesso che le avrebbe fatto visita molto presto, perché le mancavano i ragazzi. Questa era stata l'ultima volta in cui Jenny aveva sentito sua sorella. È venerdì 27 dicembre, la famiglia di Patti torna a casa prima del previsto. Durante la notte, parcheggiata la macchina davanti a casa di Patti e di J.R., Jenny si precipita dentro per capire cosa stia succedendo e abbracciare i bambini. Tutti i parenti sono sempre più in preda alla disperazione. Un paio di giorni dopo, le due cugine di Patti, Cathy e la sorella Barbara, si recano all'impianto dove lavorava la donna, nel cui parcheggio è custodita la sua macchina. Ma, quando controllano quella che avrebbe dovuto essere la gomma bucata, intuiscono qualcosa che cambia per sempre la natura delle indagini. Infatti, se la ruota si fosse bucata o sgonfiata durante il tragitto, avrebbero dovuto essere presenti dei danni al copertone o anche al cerchione, che invece non risultano. Sembra che la gomma si sia sgonfiata sul posto. Per verificare la loro teoria, rigonfiano la gomma e, come sospettano, questa trattiene benissimo l'aria. Inoltre, il capo di Patti rileva un'altra stranezza che potrebbe confermare l'ipotesi di un rapimento. Quando aveva guidato l'auto per portarla all'impianto, non aveva dovuto spostare il sedile. E lui era alto 1,80 m. Patti, però, era alta 1,60 m se metteva i tacchi. Quindi c'è certamente qualcosa che non va. Infine, a creare perplessità, è l'ora in cui la macchina sarebbe stata abbandonata. Il direttore spiega che, quando aveva portato via l'auto per metterla al sicuro, nel parcheggio, all'interno dell'impianto, il cofano anteriore, sotto il quale si trovava il motore, era ancora caldo. A fronte di queste informazioni, Cati ricontatta la polizia, che, come detto, apre un'inchiesta ancora prima che siano passate le fatidiche 72 ore. Adrian Ramirez, un tecnico della scientifica, è il primo a esaminare la macchina della donna scomparsa. La ruota non versa alcun danno, non c'erano lacerazioni né segni di usura, il che conferma l'ipotesi che fosse stata intenzionalmente sgonfiata. E tra l'altro, attenzione, sgonfiata, non bucata. La squadra della scientifica determina presto che questo caso non riguarda di certo una donna che aveva abbandonato volontariamente la sua famiglia. L'automobile, inoltre, era pulita alla perfezione. L'interno del veicolo appariva accuratamente lavato con un detergente e dell'acqua. E, in effetti, è presente ancora dell'acqua all'interno della vettura, di cui mandano dei campioni il lavoratorio. Gli investigatori sospettano che questi possano contenere tracce di sangue, ma non possono esserne certi, chiaramente. Poi si concentrano sulla ricerca di impronte digitali. Nonostante l'auto sia stata lavata accuratamente, ne vengono individuate alcune che non appartengono a Patti. Sebbene vengono effettuate dei controlli a livello sia locale che nazionale, non riescono ad ottenere alcun riscontro. Mentre la polizia della contea continua a esaminare l'automobile di Patti, Jean, Cathy e Barb stanno organizzando delle squadre di ricerca. Il padre di Patti, invece, resta a casa con i bambini. Nella serata di venerdì 27 dicembre sono accorse diverse centinaia di persone sul punto in cui è stata ritrovata l'auto di Patti. Barb e sua madre Jean vanno a casa di Patti per prendere dei vestiti da far odorare ai cani. Man mano che le ore passano, Barb e Jean sanno che le speranze di ritrovare viva Patti si stanno nettamente riducendo. Un cane, annusando gli abiti della donna, si dirige quasi subito verso un invaso idrico nei pressi della strada. Il cane per l'esatezza conduce la squadra di ricerca verso uno specchio d'acqua largo circa 15 metri e profondo 1. La zona non è ben visibile dalla strada, ma è possibile che qualcuno abbia gettato il corpo di Patti in quello specchio d'acqua dopo aver abbandonato l'auto? Le ricerche si concentrano lì immediatamente, potendo contare anche sulla disponibilità dei sub della Contea e dei volontari di diverse organizzazioni che controllano il bacino palmo a palmo, senza trovare nulla, ahimè. La squadra quindi estende le ricerche di Patti a tutta l'area circostante, in modo capillare. Si aggiungono alle squadre di ricerca anche dei completi estranei, i quali individuano diverse discariche vecchie cave, insomma posti in cui non vorresti mai ritrovare qualcuno a cui vuoi bene. Sabato 28 dicembre però le ricerche vengono interrotte. Adesso, quindi un po' in ritardo a mio avviso, la polizia inizia a interrogare chiunque conosca Patti, cercando qualcuno che potrebbe aver avuto un interesse a farla scomparire. In casi del genere non bisogna escludere nulla e la polizia è convinta che il colpevole è qualcuno che Patti conosceva. Ora gli investigatori sanno della presenza di due uomini nella vita della donna, JR, il marito separato, e Gary, l'ex fidanzato appena tornato nella sua vita. Iniziano interrogando Gary. La polizia scopre che l'uomo era andato a casa di Patti il giorno della sua scomparsa, nonostante non avrebbero dovuto vedersi prima di sera. Secondo la zia Jean, Gary avrebbe visto l'auto di Patti e il camioncino di JR davanti a casa e i bambini giocare in giardino. È possibile che vedere la famiglia riunita in occasione del Natale lo avesse reso pericolosamente geloso? In realtà, secondo la famiglia di Patti, Gary non è coinvolto nella sparizione della donna. Gary, infatti, ha trascorso la giornata di Natale con la sua famiglia fino a sera, quindi ben oltre l'orario in cui Patti avrebbe abbandonato la sua automobile. Il colpevole non può quindi essere lui. Inoltre, la prima persona che aveva aiutato la famiglia a cercare Patti era stato proprio Gary. Si era subito sottoposto all'esame del poligrafo, aveva seguito tutte le operazioni di ricerca e aveva anche collaborato nella distribuzione dei volantini per rendere nota la scomparsa di Patti. Insomma, Gary non offre alcun motivo alla polizia di sospettare di lui, ma per la natura del suo rapporto con la donna non è possibile escluderlo dalla lista dei sospettati. La sua morte improvvisa, avvenuta qualche tempo dopo a causa di un incidente stradale, lascerà per sempre in sospeso la questione. Mentre gli investigatori scavano più a fondo nel rapporto tra Gary e Patti, vengono a sapere di un episodio imbarazzante avvenuto due settimane prima della scomparsa della donna. L'evento fa loro pensare che ci siano altre persone interessate a chiudere i conti con Patti. A questo punto dobbiamo fare un passo indietro. Torniamo al 13 dicembre. Un membro della chiesa frequentata da Patti e J.R. aveva visto la donna pranzare con Gary al Diary Queen, un locale molto romantico, e aveva denunciato subito la cosa al ministro della chiesa. Infatti non riteneva opportuno che una donna sposata pranzasse da sola con un uomo che non era suo marito. Posso dire una cosa? Ma nessuno che si fa mai una padellata di cavoli propri, mai, quando non serve, si impicciano. Quando serve che aiutino, mo te stanno. Non dicono niente, io non ho visto niente, non ho fatto niente. Non è proprio esattamente questo caso. Dico in generale, ma che te frega? Io capisco che si è in una situazione religiosa, eccetera. Ma che te frega a te di... Poi manco l'avessi visto entrare in un hotel ad ore, santo cielo. Era a pranzo con un altro che non era suo marito. Fatti i cavoli tuoi, che campi cent'anni. Anche perché, proseguiamo, la situazione non è finita qui. Cioè, la seconda parte è ancora di più fatti i cavoli tuoi. Ma poi ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Qualche giorno dopo, infatti, in chiesa, mentre fa le prove con il suo gruppo musicale, Patti viene pubblicamente ripresa per questa presunta infedeltà. Il ministro della chiesa interrompe le prove e richiama Patti davanti a tutti i presenti, le dice che non merita di rappresentare la chiesa con il suo canto. Questo fatto scatena un acceso dibattito tra i membri della comunità. In città ne discutono molto. Secondo alcuni fedeli, Patti aveva sbagliato a vedere quell'uomo, perché, tecnicamente, era ancora sposata. Altri sostenevano il contrario, perché lei e JR erano già separati e sul punto di divorziare. In ogni caso, non mancano di certo gli attacchi personali e Patti. Ne soffrì molto. Ecco perché, risottolineo, fatevi una padellata di cavoli vostri. Cioè, sta donna è stata vista a pranzo o a cena con un uomo che non era suo marito ed è uscito tutto questo gran pandemonio. Anche il fatto del ministro che riprende Patti in chiesa davanti a tutti mentre canta. Ma perché? A che scopo? Per umiliarla? Piuttosto prendila da parte quando è finito il tutto, quando è finita la messa, quando Patti ha finito di cantare e le chiedi spiegazioni. Ma perché anche umiliarla davanti a tutti i fedeli? Per poi creare, tra l'altro, questo gran casino in cui tutti alla Verna erano lì a dire Ah no, secondo me ha fatto bene uscire a pranzo o a cena con questo tipo. Ah no, secondo me ha fatto male. Fatti i cavoli vostri! Fatevi i cavoli vostri! Non sono fatti i vostri! Ok, che cosa fa una donna che tra l'altro si sta per divorziare? Anche meno, anche meno. Questa è la mia opinione. Torniamo a domenica 29 dicembre, quindi altro balzo in avanti. Mentre i volontari continuano a setacciare i campi alla ricerca delle tracce di Patti, gli investigatori affolano casa sua, l'ultimo posto in cui Patti è stata vista viva. Più tardi anche la scientifica fa visita a JR. L'uomo consente agli agenti di perquisire l'abitazione. A primo impatto tutto sembra a posto, poi la casa viene controllata nel complesso e attentamente. Come è giusto che sia. I tecnici della scientifica si dedicano in ultimo alla camera da letto di Patti e JR. Secondo l'uomo, Patti avrebbe passato gran parte del pomeriggio del giorno di Natale chiusa a chiave lì dentro. Ma quindi, cos'è successo esattamente il giorno di Natale? La tensione emotiva si era scatenata fin dalle prime ore del mattino, poco dopo l'arrivo di JR. Sempre secondo il marito, la lite era nata da una discussione su un nuovo compagno di Patti, per poi riversarsi anche su altri argomenti come la loro vita familiare. Per JR il loro rapporto dava un'immagine sbagliata agli occhi dei loro tre bambini. A questo punto gli investigatori scoprono che quel giorno, sia il 25 dicembre, a Natale, anche la sorella di JR, Marilyn e suo figlio erano stati invitati a casa. Quando la donna era arrivata lì con suo figlio, JR le aveva detto che Patti non si era sentita bene e le aveva chiesto di accompagnare i bambini a casa della sorella più piccola. Così, JR e Patti erano rimasti in casa da soli. Marilyn aveva pensato che i due avessero bisogno di starsene tra loro in tranquillità per cercare di chiarire la situazione. Ma, secondo JR, è proprio a questo punto che la discussione degenera in una guerra verbale comprensiva di minacce di divorzio. JR, infasterito dal comportamento di Patti, le aveva detto che, se lei avesse continuato così, non solo si sarebbe ripreso la casa, ma le avrebbero tolto anche la custodia dei loro figli. Secondo JR, l'obiettivo era esclusivamente quello di intimorirla per indurla a mettere da parte quei comportamenti inappropriati, almeno in presenza dei bambini. E qui apro un'altra parentesi. JR aveva tutto il diritto di dire queste cose a Patti, per carità. Dovevano ancora divorziare, si erano separati, sì, ma erano stati sposati per anni. Quindi, in questa situazione ci sta, lo capisco, no, che JR trovi sconveniente la situazione creatasi tra Patti e Gary. E lui ha tutto il diritto di mettere becco in questa situazione. Ma non le persone che vivono a Lavergna. Non so se mi spiego, insomma. Gli abitanti della città in cui loro vivono dovrebbero farsi cavolacci loro, secondo me, ripeto, ma penso che sia impossibile dovunque fare questa cosa. Cioè, alla fine le persone parlano sempre. Però qui, cioè, proprio, è la situazione che non mi piace assolutamente. C'è del ministro della chiesa che prende, la umilia davanti a tutti. Si crea un dibattito tra la popolazione della città che dice è giusto che lei si frequenti con Gary, altri che dicono no, non è vero, è ancora sposata. Ma che ve frega? Che ve frega? Ripeto, che ve frega? Santo cielo, che ve frega? Ma a quel punto Patty aveva preso la borsetta e le chiavi e se n'era andata. Nessuno aveva visto più neanche quei due oggetti. Quindi, le chiavi e la borsetta di Patty. Non c'è nessun testimone che possa confermare agli investigatori di aver visto Patty lasciare la casa. Jayar è convinto che Patty sia stata sequestrata dopo essere uscita dalla sua abitazione. Ma va, non avrei mai detto. Quattro giorni dopo, come detto, i tecnici della scientifica erano nella camera da letto della coppia, uno degli ultimi posti in cui Patty è stata vista prima di scomparire. Notano immediatamente delle macchie scolorite sul pavimento che vengono subito trattate con il luminol per rivelare l'eventuale presenza di sangue. Confinate nel giardino di un vicino, le parenti di Patty osservano la scena da lontano. Ma, in base a quanto sostengono gli investigatori, Marilyn, ossia la sorella di Jayar, si introduce all'interno dell'abitazione e interrompe la raccolta dei rilievi con una raffica di domande. La sua interferenza lascia pensare che voglia disperatamente proteggere il fratello. Mentre uno dei tecnici scorta Marilyn fuori dalla camera, da letto, l'altro prosegue il test con il luminol. Ciò che trova potrebbe proprio essere la prova che un'aggressione violenta è avvenuta lì dentro. Emergono dei risultati positivi sia da quanto raccolto nella camera da letto che nell'armadio e nel bagno. Ma, considerando che il luminol reagisce anche con i detergenti, è impossibile sapere se si tratti davvero di sangue o di candeggina. A questo punto, un'ulteriore interruzione da parte di Marilyn impedisce di approfondire l'esame. Così i tecnici abbandonano la casa. E io trovo tutta questa situazione assurda, ma andiamo avanti. Il giorno seguente l'ispezione grazie a Dio riprende. Quindi i tecnici ritornano sul punto in cui il luminol aveva dato un riscontro positivo e, su il pavimento della camera da letto, individuano delle minuscole gocce di sangue. Vengono ritrovate tracce ematiche anche su un battiscopa presente in questa stanza. Inoltre, pure un secchio riposto in garage risulta positivo al luminol. A questo punto risulta difficile dubitare che sia accaduto qualcosa di orribile. Gli investigatori, in ogni caso, non ne hanno la certezza. Dovrebbero provare che il sangue trovato nell'automobile mischiato con l'acqua e quello rilevato in casa appartenga davvero a Patty. Tuttavia, considerate le quantità minime di cui dispongo, non sarà difficile provare che nell'abitazione di Patty e JR è stato commesso un delitto. La famiglia di Patty, però, non è altrettanto cauta nel giudicare le prove a carico di JR. Ad esempio, fa notare che la casa non è mai stata davvero isolata, neanche quando sono state ritrovate tracce di sangue. Dopo la scomparsa di Patty è stato permesso al JR e alla sorella di restare all'interno dell'abitazione, anche se questo non si dovrebbe fare. E hanno ragione. È tutto sbagliato. Tutto. Proprio mentre sembra che le indagini sulla scomparsa di Patty stiano procedendo spedite, scoppia una disputa giurisdizionale. Anche se l'automobile era stata abbandonata nella contea di Bear, la casa di Patty e JR si colloca in una contea vicina. Il mese successivo, sia nel gennaio del 1997, qualche settimana dopo la scomparsa di Patty, il caso viene affidato all'ex detective della contea di Wilson, John Martinez. John, dopo aver letto i rapporti dell'indagine, chiede di parlare con JR. I due sostengono un colloquio dalla durata di circa quattro ore e risulta pieno di incongruenze vuoti. Il detective, dunque, non è affatto convinto di nessuna delle risposte. JR a questo punto inizia a rendersi conto che tutti lo ritengono responsabile della scomparsa della moglie, ma conferma di non sapere nulla del sangue rinvenuto nella sua automobile. Secondo lui, qualunque cosa sia successa a Patty, è accaduta dopo che la donna è uscita di casa, la sera di Natale. Per quanto concerne il sangue rilevato nella camera da letto, anche in questo caso JR non ha una spiegazione da fornire alla polizia, ma ripete che non ha nulla da nascondere. Subito dopo chiede l'assistenza di un avvocato e non aggiunge altro, rifiutandosi anche di sottoporsi al test del poligrafo. Sapendo di essere, almeno per il momento, l'unico genitore ancora presente, JR dichiara di doversi proteggere per il bene dei suoi figli. Il detective Adrian Ramirez, però, è convinto che lui sia il principale sospettato. Del resto, JR non chiarisce assolutamente niente, non fornisce alcuna spiegazione sul perché l'automobile fosse stata accuratamente pulita e neanche riesce a motivare la presenza di sangue sulla scena. Quasi tutti gli inquirenti coinvolti nell'inchiesta sono convinti che l'analisi confermerà che il sangue rinvenuto è di Patty, ma in attesa dei risultati e in assenza di prove a carico di JR, la polizia non può ancora incriminarlo ufficialmente. Come ipotizzato, ciò che emerge dalle indagini non fa che confermare i loro sospetti. Due giorni prima della scomparsa di Patty, JR aveva deciso di rinunciare al suo appartamento. In una lettera del 23 dicembre, JR aveva chiesto la rescissione del contratto d'affitto, anche se il motivo ufficiale risiedeva nella pericolosità del quartiere. Eppure il tempismo della decisione risulta sospetto. JR, inoltre, era tornato a casa il giorno stesso della scomparsa di Patty e, dopo soli tre giorni, aveva svuotato gli armadi e sulla segreteria telefonica si poteva ascoltare soltanto la sua voce. JR spiega che il suo ritorno a casa, il 25 dicembre, non era stato programmato e che era stata proprio la lite con sua moglie a esasperarlo, portandolo a cacciarla di casa. A quanto sembra, dopo essere uscita di casa la sera del 25, Patty aveva chiamato un fabbro per programmare di cambiare le serrature. Arriviamo al 7 aprile del 1997, oltre tre mesi dopo la scomparsa di Patty. Finalmente sono pronti i risultati delle analisi che confermano che il sangue trovato nell'automobile e in casa appartiene proprio a lei. Tuttavia questo non basta ancora per incriminare JR. Non è stato ritrovato il cadavere di Patty, né una prova che lo colleghi a lei. Però il comportamento sempre meno collaborativo dell'uomo non fa che catturare l'attenzione della famiglia e della polizia. Ormai ai parenti di Patty non è più concesso di entrare in casa o di vedere i bambini. I figli di JR non sono più interrogabili, questo sia che si trovino a scuola che in chiesa. Questa scelta risulta sospetta, ma JR sostiene che la polizia non ha mai chiesto ufficialmente di sentire i bambini e che, se ha interrotto i rapporti con alcuni familiari di Patty, è soltanto perché lo ferisce che loro pensino che lui possa aver fatto del male alla moglie. Sempre secondo JR, sarebbe stato un agente a suggerirgli di non partecipare alle ricerche perché se fosse emerso qualcosa legato a Patty, il suo DNA avrebbe potuto trovarsi sulla scena del rinvenimento. La polizia continua a indagare a 360 gradi sentendo chiunque possa aver conosciuto Patty e seguendo ogni possibile traccia che però porta sempre alla casa di Patty e JR. Secondo una voce anonima, il corpo sarebbe stato nascosto nella fossa settica. Gli investigatori ottengono il mandato per perlustrarla, ma anche questa ricerca non porta a nessun risultato. Così i detektivi interrogano per l'ennesima volta tutti i vicini, ma nessuno aveva visto o sentito niente. Però diverse settimane dopo la scomparsa di Patty, finalmente arriva una telefonata che si distingue un po' dalle altre. Si fa riferimento a una nuova scuola elementare in costruzione nel periodo di Natale a Pleasanton, a 60 km a nord di La Vernia. E il responsabile capo del cantiere è proprio JR. A sembrare sospetto è proprio il fatto che i lavori eseguiti nel cantiere coincidano perfettamente col periodo in cui Patty era scomparsa a La Vernia. I familiari di Patty raggiungono il cantiere, palano con un paio di operai, i quali rivelano che in effetti JR aveva fatto qualcosa di assolutamente insolito, sovrintendendo personalmente alla gettata delle fondamenta di una delle ali della scuola. Secondo la telefonata, infatti, Patty sarebbe stata sepolta proprio sotto la gettata eseguita in corrispondenza della sua sparizione. JR nega l'accusa dichiarando che l'operazione era stata programmata con largo anticipo e portata a termine come previsto. Arriviamo a mercoledì 7 maggio. Quasi quattro mesi dopo la scoperta del cantiere della scuola elementare di Pleasanton, la polizia coinvolge nelle indagini i ranger del Texas e una squadra di specialisti di Dallas che, con un georadar, sondano il cemento alla ricerca di eventuali anomalie. E in effetti queste anomalie le trovano. Quindi gli operatori praticano dei fori nella gettata, poi si avvalgono di un cane che però non sembra percepire odori sospetti. Così anche questo tentativo si conclude con un fallimento. Ciononostante la famiglia di Patty crede che il suo corpo potrebbe essere sepolto lì sotto. Dopo questi tentativi la pista della madre scomparsa, ahimè, si raffredda. Arriviamo al 2005. Sono passati ben 8 anni dalla scomparsa di Patty e JR richiede la dichiarazione di morte presunta. Quando i familiari della donna lo vengono a sapere, ne restano sconvolti e lo denunciano per omicidio colposo. In gioco c'è anche l'assicurazione sulla vita di Patty. L'8 dicembre 2005 si chiude il processo. L'assicurazione liquiderà quanto dovuto ai figli di Patty e tutte le accuse contro JR vengono rigettate. Questa sconfitta però non impedisce alla famiglia di Patty di continuare a cercarla, impiegando il proprio tempo libero per seguire qualunque traccia. Anche i detective la pensano allo stesso modo. Il caso era passato al reparto delitti irrisolti ed ereditano l'inchiesta nel 2007, quando dalla contà di Bear ritorna quella di Wilson. Il caso dunque non è chiuso. I detective ci stanno ancora lavorando e continueranno a farlo per il bene dei figli di Patty e dei parenti. Nel frattempo JR sostiene che, concentrandosi esclusivamente su di lui, gli investigatori hanno dato alle indagini una direzione sbagliata, permettendo al vero assassino di farla franca. Patty non si vede né si sente da 23 anni, ma ancora oggi la sua famiglia non ha perso la speranza che il suo corpo venga ritrovato e che possano finalmente vivere in pace. Dobbiamo trovare Patty, così possiamo farla riposare, ha detto a Dateline la sorella minore di Patty. Jenny, nostra madre non sta bene, ha 76 anni e ha il cancro. Tutto quello che voglio è che lei abbia pace. Detto questo, ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere se conoscevate questo caso, cosa ne pensate di questa situazione della chiesa che si è messa in mezzo, della popolazione che ha iniziato a dire la sua opinione così a cavolo. La pensate come me? Sono curiosa, fatemi sapere qua sotto nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere se conoscevate il caso o se ve l'ho fatto scoprire io. Sono curiosa. Detto questo, vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felice. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.